allora oggi sono ospite di ferruccio mi fai tortellini quindi sono un imbarazzo ma è ferruccio è uno dei miei amici più 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 stretti ma questi sono tuoi ferruccio infatti di ma come si dice in bolognese to ok tour plane perruccio ma queste le hai fatti con le tue mani che meraviglia si no basta perché sennò io già sono simile a una balena faccio un po di più ferruccio adesso sta pesando i tortellini ma quelle brodo di cappone questo è brodo c'è anche il cappone ah ok e siamo al vino che cosa è questo ferruccio questo sarebbe il sorbarese sorbarese l'ambrusco di sorbara quindi sarebbe una specie di quello della graspa rossa ok questo è più è più sassaggio allora è che oggi mi sfondo ragazzi io te lo dico no è a posto è a posto adesso se ti posso fondare allora perché come hai detto ferruccio del del dell'ambrusco la schiuma vado via io deve andare via la schiuma è andata via allora è perfetta questa rana cos'è ferruccio porta fortuna quando ho portato alle suore che c'era avevano una rete di cioccolato e poi c'era dentro quello fare lì e beh mi sono affezionato lo peggio sempre mi piace il parmigiano e allora ferruccio mi sta grattando il parmigiano formaggi il rete formaggi e le linee a posto ferruccio ha aggiunto anche il prosecco oltre all'ambrusco ma non chiedete l'acqua mi raccomando adesso provo ad assaggiare va bene assaggi mondiale con i tortellini e meglio il prosecco o il lambrusco sono due ci stanno bene tutte e due io l'ho assaggiato vanno bene tutte e due perché il tortellino dato che miliano certo e l'ambrusco e di modano vanno bene ascolta ferruccio ma il segreto dei tortellini e anche il contenuto c'è della mortadella c'è del prosciutto c'è della carne di di maiale deve essere di buona qualità comunque c'è del parmigiano ma lo fai te o no adesso una volta lo facevamo in casa quando c'era mia moglie c'è la ricetta che sapeva già quanti quanti etti di che è morta dalla poi si immaginava poi c'era un uovo quello color rosso non col bianco poi si fa tutto un bel imposto come se non bastasse alla fine ci sono le sfrappole e ferruccio come le chiamate voi le strappole come le chiami delle strappole io le mangio non le chiamo c'è una cosa bellissima che ha fatto ferruccio che mi inorgoglisci allora ha messo la foto con mattarella e quella con me accanto e questa è la cosa il regalo più bello che mi potesse fare finito il pranzo da ferruccio ora ci arriviamo a prendere le patate beh che dire ragazzi per me è stato un divertimento perché conosco ferruccio da diversi anni e ci vediamo a continuazione è stato al gioco dei tortellini come sempre quando ci incontriamo una festa perché siamo veramente amici questa per me è una delle più grosse gioie che mi sia mai capitata avere una persona del genere come come amico saluto a tutti e state in campana per il prossimo video ciao